Ciao da Dario di Alternativa Linux. Autenticarsi con CNS nei portali online, firmare digitalmente documenti, gestire atti giudiziari con SLPCT con Linux è tutt'altro che complicato. Poi dicono che un desktop Linux non sia adatto per cose importanti. Vediamo come identificare lettori di smartcard compatibili, chiariamo alcuni meccanismi e poi le istruzioni passo passo con il lettore che ho comprato io. Nella descrizione non metto tutti i link e i dettagli dei lettori consigliati ma solo quello della pagina blog collegata al video in cui poi li trovi tutti. Pubblico questo video non per promuovere i lettori USB tramite i link in affiliazione con Amazon. Ricevo l'1% del suo costo a parità di prezzo per te se ne acquisti uno dai miei link e, viste le percentuali possibili in relazione alle visualizzazioni, per ora non mi parrebbe un grande investimento. Lo faccio perché una delle ragioni per cui ho finora mantenuto una partizione Windows è quella di non aver avuto altra scelta che sfruttare la carta nazionale dei servizi e firma digitale se non in una soluzione prevista assieme ad un lettore e software che funzionano solo con Windows. Vorrei documentare una mia recente esperienza fatta per esigenze personali. Ho avuto conferma che basta usare la carta con un lettore USB compatibile con Linux. Ne ho cercato uno per usare CNS e firma digitale con software differenti da quelli forniti nella mia soluzione. Ho spesso bisogno di accedere a portali telematici di giustizia ed effettuare operazioni con documenti firmati digitalmente. Non parlo di CIE, carta di identità elettronica, con Linux. I lettori USB per chip contactless, come quello che serve per autenticarsi tramite CIE, sono di solito differenti dai lettori di smartcard. Vedo su internet che in tanti comprano e restituiscono lettori commettendo questo errore. A meno che un lettore non preveda espressamente di farti inserire una smartcard CNS e avvicinare una CIE per autenticarti, compatibile con Linux, li troverai come lettori differenti. Ma nelle mie rapide ricerche non ne ho notati per ora. Ma puoi fidarti dei marchi di lettori di smartcard CNS che cito oltre e di cui ho trovato driver anche per i lettori senza contatto per la carta di identità elettronica. Il primo requisito essenziale è il possesso di una CNS, carta nazionale dei servizi contenente certificati per l'autenticazione e la firma in corso di validità. Do per scontato che tu sia certo che essa funzioni e che tu sia in possesso del suo PIN. Io ho una CNS fornita da Aruba con Aruba Key. Volevo mettere in un cassetto la Aruba Key, la cui soluzione software e supporto per Linux lascia a desiderare, e usare carta nazionale dei servizi e firma digitale con un lettore compatibile. Il secondo requisito è infatti quello di un lettore di smartcard compatibile con Linux. Per un lettore eventualmente già in tuo possesso non prometto niente, ma potresti verificare il dischetto o comunque il driver che ti sia stato fornito per Windows. Nel caso in cui il programma di installazione mostri file o scritte che riportano Bit4ID, potresti avere fortuna anche installando il medesimo driver che uso più avanti con il lettore da me testato. O con uno scaricato dalla pagina di driver di Bit4ID o altro produttore. Altrimenti con circa 15€ ti procuri un lettore nuovo come quello che ho comprato io o gli altri che consiglio. Ho comprato e provato questo lettore utrust2700r ben documentato con un sito all'altezza delle aspettative. Confermo la presenza di informazioni e driver per Linux. Si installa da un solo file senza necessità di configurazione alcuna, ma ne suggerisco altri come alternativa dopo attenta ricerca, lettore per lettore, nel sito dei produttori. Per tutti ho verificato la presenza di driver per Linux e informazioni per installarli. Posso infatti dire che tutti quelli basati su soluzioni internavigare, Bit4ID, Identive, Utrust, prevedono driver Linux e istruzioni e sono talvolta basati sui medesimi chip. Confermo la presenza di driver in formato DEB per ambienti Debian, Ubuntu e Linux Mint con cui ho fatto i miei test. I lettori Bit4ID prevedono un archivio che contiene pacchetto DEB, RPM e i file per l'installazione manuale del driver. Mi sentirei di considerarli piuttosto sicuri per l'acquisto ed il funzionamento su Linux. Se scegli un altro lettore, prima dell'acquisto verifica che sia chiaramente specificata la compatibilità con Linux. O, anche se poi non lo compri lì, cerca tra le domande e risposte nella pagina Amazon del prodotto, usa la parola chiave Linux nel campo di ricerca e vedi cosa viene fuori. Oppure cerca su un motore Modello di lettore Driver Linux, o anche senza Linux, per vedere se trovi la pagina di supporto per il download di driver e accertare in anticipo la presenza di driver per Linux. Quello che vogliamo fare è, primo, consentire al sistema di riconoscere il lettore smartcard collegato come dispositivo per la gestione di certificati di sicurezza, e ciò installando il giusto driver per Linux. Talvolta si installa separatamente anche il driver specifico per il tipo di microchip della card. Secondo, importare i certificati in Firefox, che è in grado di collegarsi al lettore. In questo modo, nei portali di servizi che richiedono l'autenticazione tramite CNS, accedendo con Firefox e il lettore installato e collegato, viene mostrata una piccola finestra in cui inserire il PIN della carta per l'identificazione. Terzo, installare il software di Infocert per Linux, che consente di firmare digitalmente in formato PDF o P7M, PADES e CADES, a porre eventuali marche, oltre verificare e consultare file firmati digitalmente. Quarto, solo ed eventuale, per CTU o altri interessati al processo civile telematico, installare SLPCT in ambiente Linux. Visto che parliamo di particolari esigenti di sicurezza, aggiorna Firefox e la tua distribuzione Linux quanto prima, appena sono rilasciati aggiornamenti. I difetti che l'ultima versione risolve diventano di dominio pubblico e finché non aggiorni, la tua sicurezza potrebbe essere a rischio maggiore. Come indicato nella confezione e nel foglietto all'interno della scatola del lettore Utrust 2700R, Linux è sopportato. Trovi informazioni chiare ed un indirizzo web da cui si scarica subito un driver per l'illettore in formato .deb per Ubuntu, Mint, Elementary, Zorin, PopOS, Debian e altri. Poi sono mostrati vari tipi di chip presenti nelle smart card. Differiscono per il particolare disegno dei contatti. Serve infatti anche il driver adeguato per la card. Nel caso della mia carta INCARD per Linux Mint, mi basta il primo file deb scaricato. Se però usi una distribuzione Linux che supporta pacchetti RPM, nei link accanto ai driver dei singoli chip, più in basso nella pagina, trovi anche quelli. Scaricato il mio pacchetto deb, basta fare doppio clic per avviare estrazione e installazione. Vengono segnalati eventuali pacchetti supplementari che potrebbero essere installati per il funzionamento del driver. Si tratta di cosiddette librerie per la gestione di dispositivi e protocolli di sicurezza e cifratura spesso coinvolte in questo genere di servizi in ambito Linux. Al termine dell'installazione consigliata, riavvia il computer. Poi la prova del fuoco per capire se il lettore è a posto. Molto semplice. Se hai prima bisogno di autenticarti in un portale con cns, prosegui con l'importazione dei certificati in Firefox. Se devi firmare o verificare un documento con firma digitale, scarica e installa GoSign. Il passo fondamentale per autenticarsi con cns o tessera sanitaria nei portali di servizi online è che il browser informi il sito web della disponibilità di certificati digitali per l'identificazione certa. In questo modo il portale richiederà l'identificazione tramite il PIN della carta e questo darà accesso a tutti i servizi relativi. E ci vuole Firefox in ambiente Linux. Non ho verificato Opera o altri browser, ma Chromium o Google Chrome non consentono di gestire il modulo di sicurezza PKCS11. Collega il lettore, inserisci la card dal lato corretto con il chip in alto con il mio lettore Utrust e apri Firefox. Apri il menu impostazioni e vai su Privacy e sicurezza e in fondo alla pagina troverai dispositivi di sicurezza. Apri la finestra, clicca su Carica e metti se vuoi un nome profilo personalizzato oppure lascia Nuovo modulo PKCS11. Poi devi cliccare su Sfoglia per guidare Firefox fino al file principale del driver installato. Il percorso parte dalla radice del file system e a partire dalla cartella slash che si trova al di sopra di home nella struttura Linux. Con il file manager, da computer o con apposita vista file system, devi poi entrare su lib, poi bit4id e selezionare il file libbit4xpki.so. Il percorso completo dalla radice del file system Linux è quindi questo. Fine. Da questo momento, per i portali web che richiedono l'autenticazione, Firefox mostrerà la finestra di inserimento del PIN nel momento in cui accedi al sito web e sei in grado di effettuare il login dopo essere stato già autenticato. Questo se il lettore è installato a dovere, i certificati validi, la card funzionante ed il PIN corretto. La soluzione più diffusa per firmare digitalmente, leggere e verificare documenti firmati digitalmente e la posizione di marche temporali è quella proprietaria ma gratuita di InfoCert. Giunto ad una ridefinizione con il nuovo nome GoSign Desktop che sostituisce il precedente Diche 6. Il file per l'installazione in Linux si trova su firma.infocert.it slash installazione. Scaricato e fatto doppio clic, l'installazione si avvia. Completata l'installazione trovi il collegamento a GoSign nella categoria accessori del menu programmi. Collega prima il lettore, poi inserisci la scheda prima di avviare GoSign. Avviato il programma, dalla barra comparsa sulla sinistra entra su elenco certificati. Se il lettore ha installato la card funzionante e i certificati attivi, dovresti trovare sia quello per la firma digitale che per l'autenticazione con codice fiscale. Non spiego come usare GoSign perché sarebbe fuori tema ed è comunque un programma molto intuitivo e ben documentato. Avvocati, magistrati e consulenti si cimentano quotidianamente con un'amministrazione della giustizia sempre più digitalizzata. A loro rivolgo questa parte finale del video per mostrare quanto la gestione da una postazione Linux di questi servizi non richieda operazioni complesse e possa contribuire a liberarsi da Windows senza ansia. E lo dico da CTU insoddisfatto della RubaKey che in prossimità degli impegni giudiziari mi rendeva necessario operare con Windows. Slpct per Linux si scarica dal sito ufficiale slpct.it. Consente la redazione di atti e buste telematiche nel formato richiesto dal processo telematico. Scaricato il file scompattalo e con il click del pulsante destro su lpct install apri le proprietà. Poi, in Permessi, consenti l'esecuzione come programma. Adesso dovrebbe bastare il doppio click sul file slpct install per avviare l'installazione. Se invece il file si apre con un editor di testo, nel File Manager, nella stessa cartella, clicca con il pulsante destro in un punto qualunque, non un file specifico. Scegli l'opzione Apri nel terminale. Digita il comando sudo shslpct install e indica la password amministrativa. Stai dicendo al computer che vuoi installare il programma tramite la shell di Linux con i privilegi di amministrazione del sistema richiesti per l'operazione. Indicata la password, in un istante troverai sul desktop l'icona per l'avvio di slpct, che scaricherà subito certificati e uffici aggiornati. E adesso puoi eliminare la cartella di installazione e tutto il suo contenuto. Questo non è un video sull'utilizzo di slpct, c'è una corposa guida in pdf nel sito ufficiale. Da CTU in bocca al lupo. Ho finito per oggi. È possibile che in futuro io pubblichi un video simile a questo per l'uso della carta di identità a fini di autenticazione. Se il video ti piace e non conoscevi Alternativa Linux, ti invito a cominciare a seguirti, ma non meno a verificare i video che ho già pubblicato in poco più di un anno. Clicca sul logo sotto al titolo del video e ti ritrovi nella home del canale in cui trovare i video organizzati in playlist. Grazie per il tuo tempo e arrivederci a presto. Grazie per la visione!